25 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 26 25 31 32 31 32 32 32 33 34 33 33 33 34 34 33 34 Buongiorno e guarda! bravi! 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 guarda che non mi stai dai! il braccio! ma no! diva! ce l'ha lanciato! era solo Chris bravo Simo Alla Andrus Vai attacca Vai Tommy Bravo Andru Ciri bravo Andre bravissima bravo Andre bravo Andre il piombo parca chi ha fra chi ha chi bravo si 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 sono per gli stessi meno il 3 meno il 3 bravo Andre a dire il 26 bravo Cle bravo Loni bravo Loni di quale sono Sini bravo Andre alle spalle Sini bravo bravo dai Marco dai Marco bravo 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 Grazie. Vai Fran. Fanno un gancho qua. Vai Fammi. Amici. Arrivano. C'è anche il verde Matte. Sì. Dai Dai. Andalo. Dai Dai. Dai Dai. Bravo tu Ammi. Davide Davide dai. Bella Chris dai. Dai Chris. Bravo vai. bravo andrea su fra e provare a fermarlo bravo andrea bravo Lolo bravo Andre hai detto le cose più originate più profonde dai Maggi vant'eviato era bella bravo Tommy bravo cazzo sto palo quando l'hanno messo bravo stai ucino che bravo Grazie. Grazie.